L'anno scorso L'anno scorso L'anno scorso Vi vorrei presentare Leonardo Che adesso si toglierà il casco Allora Leonardo Per la prima volta qui a Tassanare Prima è Tottori Suzuki 2 cinque 2 parti Tottori Adesso due parole Anche con Samuele Lui Sensatori e niente agli altri ragazzi E' la stagione da lui Che è un popolare Lui è E' un vero Professionista e vi diverto Questa lui è dal novembre L'anno scorso Già dal 2010 Che ha iniziato a clipare Il giro della mafia E questa sera Vedrete La stagione Un voltaggio ... ... ... E' questa è la c**ta di s***** 3 3 3 4 4 4 10 10 un'attacca per Toggi Leanda Fili Fili un'attacca per Guam Zuttori e il gioco è il nuovo Mercusano è di Dardo bravo un'attacca per Leanda Fili che diventa attiva di Stagia Mando faccia di Lanzi più, più e 100 un barco da l'ora, più due lodi in fine, tutti i conti in fine, la leva al ciccaccio, la leva al ciccaccio, la leva al giro, la leva al scena, la leva al giro, la leva al giro, infine si strano questa scena e niente lì e si strano lo stanno facendo qui una domanda siete pronti per il backflip a gire la morte? io l'ho disegno siete pronti? è l'ora noi siamo qui per questo per far di divertire è l'ora le ciane, le citture via il personale si inizia a saltare via 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 Zuccheri via 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 Sì! 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 Questo è il nostro lavoro! Noi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.